Ecco a voi, Cristian e il suo strumentino, andiamo, forza! La mia a tratti, a tratti succede questo ogni tanto, eh? La mia a tratti, a tratti, a tratti. La mia a tratti, a tratti. La mia a tratti, a tratti, a tratti. La mia a tratti, a tratti. La mia a tratti. La mia a tratti, a tratti.